L'originale Mercato Mondiale dell'Arte, Arte Expo New York 2022, giunto al suo 45esimo anno, ospita più di 200 gallerie espositrici, innovative, editori e commercianti d'arte e artisti da tutto il mondo, tra i quali l'artista e fotografa palermitana Carmela Rizzuti, in uno spazio congressuale in interrotto nel quale saranno esposti i lavori originali di oltre 1000 artisti, che includono stampe, dipinti, disegni, sculture, fotografie, ceramiche, litografie e opere in vetro. Grande la soddisfazione di Carmela Rizzuti, per crescere e migliorare noi stessi bisogna oltrepassare i propri limiti conoscitivi e creativi, bisogna confrontarsi con il resto del mondo, capire il mercato e cercare di esporsi in vari modi e forme di linguaggio, sostiene la fotografa. L'Arte Expo di New York è una delle fiere più importanti a livello internazionale ed un punto di incontro che dà la possibilità di entrare a stretto contatto con collezionisti, artisti e galleristi di tutto il mondo, che permettono di crescere a livello professionale. La fiera è molto popolare, riunisce migliaia di importanti gallerie, amanti dell'arte, architetti, designer e artisti, tutti con lo scopo di far conoscere la propria opera e di prendere contatti con i buyer più importanti del mondo. Art Expo New York, ospitato artisti del calibro di Andy Warhol, Kate Ehring e Leroy Neyman. Grazie a tutti.